Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Enfea Salute è un fondo di assistenza sanitaria integrativa che va a erogare prestazioni di natura sanitaria, acquari, rimborsi spese per visite mediche, per visite legate a spese dentarie ed è un importante pilastro in quanto sappiamo benissimo che la sanità pubblica nel tempo non riuscirà a soddisfare tutte le prestazioni dei nostri cittadini. Poter avere anche un secondo pilastro legato alla parte privata completa e da piena copertura all'esigenza ovviamente di una popolazione che è sempre più sensibile, sempre più attenta al tema della salute proprio durante questa fase pandemica si è accentuato questo elemento e il fondo consapevole di ciò ha anche previsto proprio delle prestazioni dedicate al Covid. Quindi i lavoratori nel corso del 2020 e anche qua nei primi mesi del 2021 hanno a disposizione questo tipo di prestazioni e lo stanno usando con grande soddisfazione. Scatta un nuovo lockdown da zona arancione per quasi 4.000 imprese artigiane che lavorano anche con quel poco che si riesce a incassare grazie alla clientela che arriva da fuori comune saranno settimane drammatiche. A lanciare l'allarme è confartigianato in prese e città metropolitana di Venezia. I meccanici, le estetiste, le pulisecco ma anche gli ottici, gli ortopedici, pasticcerie e panettieri insieme a molte altre categorie già allo stremo da oggi non possono più contare sulla clientela fiduciaria che per avere i loro servizi e merci arriva da fuori comune. Un dramma nel dramma perché questo lockdown necessario che ripiomba a causa della tragica situazione sanitaria fermerà anche quel poco in più che magari la Pasqua poteva attivare, dicono da confartigianato. La cosa più sconsolante è che essendoci non solo un tipo di vaccino ma più tipi siamo ritornati indietro anziché andare avanti, spiega il presidente della confartigianato metropolitana, Sino Martin. I ritardi nella vaccinazione di massa sono evidenti e risultati tragici. La nostra economia è già quasi azzerata e con questa nuova necessaria decisione le cose si faranno ancora più drammatiche. Ritengo giusto vaccinare le fasce più deboli ma nel piano vaccini tra le priorità devono rientrare anche i lavoratori, le fasce sociali produttive perché contribuiscono in maniera essenziale e insostituibile a generare valore e alimentare la spesa, cioè quello che oggi non c'è stato pian piano azzerando con l'economia e il futuro del tessuto economico. Dai dati dell'ufficio studi di confartigianato nella città metropolitana sono ben 3.779 le imprese artigiane che lavorano anche grazie alla clientela fiduciaria. 209 orafi, 180 carrozzieri, 590 meccatronici, 1.268 acconciatori, 551 estetiste, 44 tra ottici e ortopedici, 161 copisterie, 150 fotografi, 167 grafici, 149 puli secco, 117 tra sarti e stilisti, 60 calzolai e 129 riparatori elettrotecnici. Tutte categorie che con questo nuovo blocco non hanno prospettive nemmeno nel breve periodo. Faccio l'esempio dei panettieri, spiega ancora, che non possono nemmeno programmare l'acquisto delle farine o altre materie, prime perché non sono in grado di ipotizzare quanto venderanno, aggiunge il direttore Matteo Masat, con un danno caricato immediatamente sulla filiera e non solo sugli incassi del singolo artigiano. Abbiamo fiducia in quello che potrà fare il presidente Draghi, ma questa fiducia logorata da questa continua emergenza sanitaria non è sufficiente per pagare gli stipendi, le tassi, i mutui e mandare avanti un'economia già presentemente provata. Allora, dottor Tufoleto, la novità di cui parliamo oggi si chiama Recovery Room. Ci spiega che cos'è. Recovery Room, che è tradotto nella lingua di Dante, è una stanza di recupero, di risveglio. Cioè è una stanza, un ambiente in cui i pazienti, prima di andare in sala operatoria e successivamente quando escono dalla sala operatoria sono assistiti da personale altamente specializzato, medici e infermieri, in modo che sia la parte iniziale dell'anestesia che la parte finale siano svolte alla maggior sicurezza. Questo perché i due momenti più critici dell'anestesia possono essere anche paragonati a quello di un volo in aereo, cioè al decollo, nell'induzione, cioè quando il paziente riceve l'anestesia e all'atterraggio quando il paziente si risveglia l'anestesia. Sono classicamente due momenti molto critici che hanno bisogno di un elevato stato di monitoraggio e di assistenza. La stanza di recupero o Recovery Room, come vogliamo definirla, è un luogo previsto delle linee guida dove i pazienti vengono seguiti prima di essere mandati in reparto e in questa maniera si hanno sostanzialmente due vantaggi. Il primo, la maggiore sicurezza per il paziente e il secondo anche per i reparti stessi che si vedono arrivare dei pazienti assolutamente svegli, complianti col sistema di assistenza che hanno e quindi anche una maggiore efficienza di tutto il sistema. Ecco, precisiamo. Voi avete scelto di realizzare questa nuova opera all'ospedale di Portogruaro, una struttura che ben si prestava a un ampliamento, che ha un blocco operatorio anche attrezzato e ampio, no? Sì, l'idea della Zinago Holding era di fare qualcosa per il territorio e quindi farlo in particolar modo per il territorio che è ciclostante alla Zinago Holding e quindi Portogruaro ed è stato a questo punto, visto anche il discorso della pandemia, di realizzare una struttura che potesse essere sia utilizzata ovviamente 365 giorni all'anno per la normale routine operatoria sia anche eventualmente adebita a un'eventuale terapia intensiva qualora non soltanto per la pandemia del Covid-19 ma anche in altre situazioni che potrebbero magari, speriamo di no, ma ripresentarsi in futuro, avere un ulteriore supporto di posti letto e di terapia intensiva. Il Comune di Gruaro non ha atteso i tempi del Programma Nazionale di Infrastrutturazione Digitale e dopo essersi convenzionato con Nuova Retti sta portando la fibra in ogni casa con una connessione rapida. Per Gruaro, spiega il Sindaco Giacomo Gasparotto, far viaggiare la connessione veloce a 1 gigabit per secondo, vale a dire 1000 megabit in download e ben 100 megabit in upload, anche nelle case è una rivoluzione. Pur essendo stato Gruaro inserito nei programmi nazionali di infrastrutturazione digitale, dopo i continui rinvii ci siamo convenzionati con un privato, la Nuova Retti, azienda portogruarese, che facendo passare la fibra nelle linee elettriche della illuminazione ha sostituito la linea della Telecom. La fibra sarà così portata in tutte le case. Il nostro territorio, lungo e stretto, ha facilitato l'opera di installazione. Dopo aver infrastrutturato GIAI, il capoluogo Gruaro, siamo quasi arrivati già a Bagnara. Oltre alle famiglie, aggiunge il primo cittadino, ne godranno anche le attività artigianali che si trovano lungo il percorso. Il costo del canone per i cittadini è di 25 euro mensili ed è consentito mantenere lo stesso numero di telefono. Con la convenzione, il Comune ha ottenuto una infrastrutturazione gratuitamente nel municipio, nelle scuole, che ora sono tutte cablate, alla biblioteca e per la protezione civile. Poiché in periodo di Covid c'è chi ha difficoltà, ecco il bando di sostegno per alunni e studenti. Abbiamo predisposto un bando, ha spiegato Casparotto, per agevolare la didattica a distanza, dando un sostegno economico di 12 euro al mese a tutti i ragazzi dai 6 ai 24 anni, se studenti universitari. Sanzioni per il mancato rispetto delle misure di prevenzione dal contagio al mercato di San Donà. Durante l'appuntamento del lunedì la Polizia Locale ha sanzionato il titolare di un posteggio di abbigliamento per il mancato rispetto delle misure previste dall'ultimo decreto. Gli uomini in divisa presenti al mercato hanno accertato che l'ambulante residente nel Padovano ha omesso di vigilare sul rispetto delle misure del distanziamento interpersonale, consentendo a più persone, contemporaneamente, di mareggiare i capi di abbigliamento che erano messi in vendita nei cestoni collocati sul banco di vendita, senza l'uso di guanti e di adeguata igienizzazione delle mani. Domenica sera, inoltre, la pattuglia presente in Piazza Indipendenza ha sanzionato una giovane alemanese che era sprovvisto di mascherina, che abbondantemente dopo l'orario di chiusura dei pubblici esercizi si era intrattenuto sul plateatico del bar, evitando di indossare il dispositivo a protezione delle vie aeree. La priorità per la ripresa, la sicurezza in questo contesto, i dati non permettono alcun scendimento, grazie alla Polizia Locale per il suo impegno che è costante, che sul fronte della vigilanza, che sia quello della prevenzione, ha spiegato il Sindaco di San Donà, Andrea Cereser. Attualmente nei vivai le piante si trovano in vaso, qualche volta in zolla. Un tempo era prassi comune trovare le piante a radice nuda. Cosa vuol dire? Vuol dire che un tempo si commercializzavano molto le piante senza terra, con le radici e basta. Questo poteva essere fatto solo durante l'inverno, cioè quando avevano le foglie. Adesso non si usa quasi più. Solo certe volte in qualche supermercato si trovano delle piante in un sacchetto pieno di segatura. Allora, prima cosa guardate se sono ancora verdi, fresche. Poi se decidete di comprarle, guardate le radici. In questo caso abbiamo, beh, sono dei pioppi, dei pioppi cipressini che sono stati tolti in maniera un po' frettolosa e le radici si presentano rovinate. Cosa fare? Bisogna che il taglio delle radici sia fatto bene. È un po' anche come gli umani, cioè di fronte a una ferita mal fatta, slabbrata o a un taglio preciso, si guarisce molto prima il taglio preciso. Ecco perché queste radici che sono rovinate vanno rifilate e, come in questo caso, che ce n'è una di rotta, va tolta perché sennò poi marcisce e rovina anche le altre radici. Ecco qua. La seconda fase è di mettere queste radici, ecco questa è proprio rotta, ecco qui, è una di essere tolta, va messa in un secchio pieno di terriccio e acqua. Si crea una specie di poltiglia, la si lascia lì 24 ore, in modo che le radici rivengano un pochettino, cioè assorbano, si ammorbidiscano, si riattivino, dopodiché la pianta può essere piantata. Naturalmente, oltre alla potatura radicale, bisogna procedere anche ad eliminare buona parte della vegetazione perché sennò rischiamo di avere una pianta che si disidrata e si va avanti così speronando questo piopo cipressiva. Si mette in terra, si bagna abbondantemente dopo averlo piantato e in primavera lui germoglierà. Roberto Davide Aurelio, da Beseclore. Alla prossima. Le note dell'ino del piave e del silenzio suonate dagli ottoni della fanfara Bersaglieri Pellas di Iesolo hanno salutato il luogo dove è stata esumata la sesta delle undici salme del milite ignoto. Si tratta dell'ex cimitero di Guerra di Via Cagamba, luogo per soste brevi e zona picnic. Per i sempre ventenni fanfaristi iesolani si è trattato di un momento per trovarsi assieme e suonare qualche brano nel rispetto delle norme anti-covid ancora vigenti prima dell'entrata in vigore delle nuove misure. Ma è stata anche l'occasione per ricordare un momento importante che lega a doppio filo Iesolo o come si chiamava allora Cava Zuccherina e la storia d'Italia. Cento anni fa infatti una speciale commissione fu incaricata dal governo di scegliere dei siti sui vari fronti di guerra dei quali esumare delle sarme completamente ignote. Una commissione ritenne che uno di questi luoghi dovesse essere lì dove i fanti compirono la loro offerta con i fratelli della Invita Marina in particolare nel tratto terminale del Piave da San Donato a Cortellazzo dove fu il battesimo ricevuto dalle acque del fiume Sacro alla Patria. Ed ecco quindi che venne esumata la sesta salma in un cimitero di guerra a Cava Zuccherina lo diana Iesolo che conteneva i resti di circa 3.000 caduti prevalentemente appartenenti a Marinai del San Marco il sacro luogo detto cimitero dei Cannoni era intitolato al tenente di vascello decorato di medaglia d'oro Andrea Baffile che perì durante un'azione eroica proprio alle foci del fiume Piave. Ora a cent'anni di distanza la città di Iesolo ha concesso anche la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24 ci fermiamo con questa edizione torneremo con le altre nel corso della giornata rimanete con noi alla prossima